Buonasera a tutti, ben ritrovati. Siamo arrivati al giorno 17 del percorso Costruiamo le fondamenta della salute. Stasera ti propongo la 14esima giornata alimentare. A pranzo abbiamo un tris, zucchine lesse oppure le potete fare saltate con patate lesse al prozemolo e infine i fagioli in insalata. Mentre a cena un piatto molto semplice della tradizione italiana, la minestra di legumi col farro accompagnata da un antipasto di soncino. Se vuoi il pranzo si può invertire con la cena. Io ti auguro una buona serata, continuo a seguirmi. Un bacio, ciao!